Vannucci Piante, sponsor ufficiale della Pistoiese, presenta... ...e successi consecutivi, ed è già andato a segno e non è acquisto Nunzio Maiella, che nella classifica ha marcatori a 13 segnature dietro a Bigoni, che la guida con 18 centri. Un impegno ostico, quindi, per i ragazzi di Morgia, che saranno privi dello squalificato addirittura 5 giornate, Nocentini. Il rifletto dell'abito massimo è stato severo e parla di uno sputo che Nocentini avrebbe indirizzato a Carfora dell'Arezzo, che era a terra nella partita di domenica scorsa a Pistoiese-Arezzo. Vedremo se ci saranno margini per il ricorso della Pistoiese. Comunque, al suo posto, Morgia inserirà Varutti, con il resto della formazione che dovrebbe essere confermata, anche se Minichleri appare in un ottimo momento di forma. Da ricordare anche la lunga lista degli fidati, che comprende sei elementi della rosa, vale a dire Buglio, Toledo, Bigoni, Sambo, Giovannelli e Collacchioni. L'occasione della trasfetta a Gualdo vale anche a ricordare uno dei giocatori che hanno vestito la maglia arancione nel periodo d'oro che culminò con la promozione in Serie A. Vale a dire Nello Saltutti, nativo proprio di Gualdo, prematuramente scomparsi nel 2003. Saltutti, che con le sue 21 reti in 68 gare negli anni 78-80, contribuì in maniera decisiva alla promozione degli arancioni. Allo Stadio Luzzi di Gualdo, prima della gara, aveva consegnato una targa di cordo alla moglie di Saltutti. Quella triste è ancora risolta vicenda di un presunto doping di mix di sostanze illecite combinate a diversi giocatori in quegli anni 70, parecchi dei quali già scomparsi Petrini, Saltutti, Ferrante, Beatrice, Rognoni, Borgonovo, Signorini, Rotella, Lombardi e ci fermiamo qui, ma ce ne sono molti altri, con Cesena e Fiorentina le società più colpite. Ma sulla vicenda c'è ancora molto da chiarire, nonostante l'impegno da anni del magistrato Guarinello. Tornando alla partita, trasferta difficile quindi per la Pistoiese, che ha davanti a sé un periodo decisivo, ha meritato ampiamente la letta, ma dovrà saper gestire al meglio eventuali battute d'arresto. Non esistono squadre imbattibili e prima o poi per la legge dei numeri e perché nel calcio l'imprevisto è sempre dietro l'angolo e può esserci anche la giornataccia. Quando arriverà, se arriverà, le arancioni dovranno essere pronti. Per ora il tornare è dominato, ma il margine dei 5 punti sulla Pianese non è ancora decisivo. Pianese cospiterà il Montemurlo, mentre l'Arezzo lo stia male. A Gualdo arbitrerà Luca Colosimo di Torino. Dopo 30 gare senza sconfitte nel campionato regolare, a parte quindi l'unica sconfitta col Sant'Ian nel post-tronneo dello scorso anno, è arrivata la prima sconfitta dell'Era Morgia. Sembrava me lo sentissi il passo falso, sensazioni dovute all'esperienza e a piccoli segnali. Oltre che alla legge spietata dei grandi numeri, dopo 7 vittorie consecutivi è arrivato il pari contro l'Arezzo e ora lo 0-2 contro il Gualdo che ha la quarta vittoria di seguito. Come spesso avviene nel calcio, anche episodi poco fortunati possono concorrere al risultato e gli arancioni ne hanno avuti durante la gara. Semplificando al massimo, non ha segnato i bigoni né contro l'Arezzo né contro il Gualdo e la pista isa ha fatto un solo punto in due gare e per la prima volta non ha messo il pallone alle spalle del portiere avversario. Maggi episodi sfortunati ce ne sono stati, sia pure nell'ambito di una gara non brillante e soprattutto segnata da gravi errori difensivi. Nel pre-gara consegna di una targa ricordo da parte del presidente Ferrari e alla moglie di Nello Saltutti, ex bomber arancione degli anni d'oro nativo di Gualdo, prematuramente scomparso. Inizia la gara con una gran botta dalla distanza di Maiella e lei acquisto Umbro con la sfera che esce di un nullo. Poi l'intervento a gamba alta al limite dell'area arancione, una buona occasione non sfruttata e mischia da collacchioni. Al quattrodicesimo si mette in luce Maiella che inventa un pannonetto che colpisce la traversa. Ancora in avanti la pistoiese con Toledo il cui tiro è respinto, ma la respinta non è sfruttata a dovere da Bigoni, ma c'era fuori gioco. Dall'altra parte Tomassini rovesciata, un gran gesto tecnico, ma anche lì la posizione era irregolare. Minicredi dalla destra mette una palla in area per Bigoni, nessuno la tocca e la sfera finisce sul palo. Al quarantunesimo passa il Gualdo grazie all'errore di Varuti che colpisce male il pallone a seguito di un lancio dal centrocampo di Goretti. Un pasticcio difensivo tra Varuti e collacchioni e Tomassini mette in rete. Ripresa al primo Bigoni ha una buona palla, ma un rimpallo fortunato tra Zanchi e il portiere Di Nardo evita guai per gli Umbri. Morgia fa uscire Bigoni e mette De Angelis. Ventunesimo, altra azione sfortunata per la Pistoiese, quando Giovannelli colpisce in pieno la traversa a tu per tu con Di Nardo. E quattro minuti dopo c'è il raddoppio del Gualdo. Sempre opera di Tomassini che riceve una palla da Maiella dopo un rinvio difettoso della difesa arancione. Non c'è più né spirito né forza per rimediare e arriva la prima sconfitta. Il caso ha voluto che la Pistoiese colpisse due legni poco prima di subire i due gol. Siappure con il risultato negativo, gli arancioni hanno dimostrato anche stavolta di arrivare spesso in zona gol. Questa volta però non è andata. Nulla di reparabile anche se il vantaggio sulla seconda, la Pianese è ora soltanto di due punti, ma in media inglese sono sei. Anche il Foligno si è avvicinato mentre la Rezza è stata fermata in casa sullo 0-0 dall'Ostia Mare e ha confermato se mai ce ne fosse bisogno di perdere poco, ma anche di non sapere sfruttare le giuste occasioni. Preoccupa se mai un po' la Pianese che non molla e a cui gli arancioni dovranno far visita a fine torneo. Non tanto per la forza della squadra quanto per l'abitudine a stare là, più o meno sempre in vetta alla classifica. Negli ultimi quattro anni ha vinto un campionato proprio superando la Pistoiese, poi due anni consecutivi ai play-off e lo scorso anno al settimo posto a media inglese 0, avversario abituato e di valore quindi. Niente di male, sotto con due impegni consecutivi al Melani contro Colligiana e Narnese con in mezzo la sosta. Grazie.